ciao sono il dottor max della farmamax che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli integratori alimentari ti leggerò i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali in base ai farmaci integratori o principi attivi da te assunti in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie ai suggerimenti condivisi in questo video esaminiamo l'integratore alimentare vagonotte crystal pharma srl ultimo aggiornamento 4 gennaio 2021 a cosa serve confezioni informazioni commerciali indicazioni modalità d'uso descrizione e caratteristiche avvertenze allergeni ingredienti apporto nutrienti data di emissione in commercio immagine prodotto a cosa serve vagonotte è un integratore appartenente alla categoria degli integratori per la regolazione del sonno e stress è commercializzato in italia dall'azienda crystal pharma srl informazioni commerciali titolare crystal pharma srl concessionario crystal pharma srl categoria di appartenenza integratori per la regolazione del sonno e stress forma farmaceutica compressa confezioni vagonotte 36 compresse da 450 mg indicazioni sono modalità d'uso si consiglia di assumere da 1 a 2 compresse di vagonotte marchio registrato al giorno preferibilmente un'ora prima di coricarsi descrizione e caratteristiche vagonotte marchio registrato è un integratore alimentare a base vegetale estratti secchi di valeriana valeriana officinale selle radice lupolo un mulus lupulus l strobili giuggiolo zip zipus iubamil semi vagonotte marchio registrato grazie ai fitocomplessi in esso contenuti può essere utile per favorire il sonno in caso di stress avvertenze non superare la dose giornaliera consigliata tenere il prodotto al di fuori della portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata di uno stile di vita sano per l'uso del prodotto durante la gravidanza e l'allattamento si consiglia di sentire il parere del medico non assumere in caso di allergia nota o presunta verso le componenti presenti nel prodotto allergeni senza glutine senza lattosio ingredienti valeriana valeriana officinale selle radice est allo 0,8 per cento in acido valerenico lupolo un mulus lupulus l strobili est allo 0,4 per cento min in favonoidi tot giuggiolo zip zipus iubamiller semi est al 2 per cento min in saponine triterpeniche maltodestrine da mais agenti anti agglomeranti carbossimetil cellulosa sodica reticolata sali di magnesio degli acidi grassi biossido di silicio agenti di rivestimento idrossi propil metil cellulosa cellulosa acidi grassi glicerolo colorante biossido di titanio apporto nutrienti tenore medio di ingredienti caratterizzanti per dose giornaliera componenti 1 compressa 2 compresse valeriana e s 250 mg 500 mg apporto di acido valerenico 2 mg 4 mg lupolo e s 100 mg 200 mg apporto di flavonoidi tot min 0,4 mg 0,8 mg giuggiolo e s 50 mg 100 mg apporto di saponine triterpeniche min 1 mg 2 mg fonte codifa l'informatore farmaceutico per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web della codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmamax ti sia stata utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo integratore alimentare esaminato